Siamo in compagnia del signor Guido che ci porta all'interno della sua casa per vedere quelle che sono le problematiche che anche nel periodo pasquale restano le stesse. Sempre la caduta di acqua qua, che tutte le mattine, stamattina ho potuto farlo per problemi fisici, qua scende acqua penso dall'appartamento di sopra, nessuno viene a vedere. In più adesso comincia a crearmi problemi in casa, che si sta scrostando tutto il soffitto e nessuno ha detto che è questione di pittura, devo dipingere io, ma non è questione di pittura, lì si sta staccando proprio perché c'è umido sotto, lì bisogna che ci sia stata una perdita sopra, perché ci sono le macchie incapibili. Qua non si vede nessuno mettere a posto le cose come dovrebbero essere. E la situazione del teleriscaldamento? Il teleriscaldamento sto aspettando da ottobre che vengano a cambiare il contatore, perché quando io spengo il teleriscaldamento lui va avanti ancora 6 o 7 numeri. Tutte le volte, se si spegne 20 volte in un giorno, in base alle temperature, lui per 20 volte va avanti 5 numeri alla volta. Quindi continua a pagare? Continuo a pagare, io sono sulle, oltre i 1000 Euro di teleriscaldamento per 40 metri d'appartamento. Però come si fa con la pensione? È dura, mi devo sempre fare aiutare dei parenti, non si fa perché è una pensione non molto alta e le spese sono elevatissime. Adesso poi è anche un periodo particolare perché arriva la Pasqua? E d'altronde bisogna arrangiarsi con quello che si ha, purtroppo oltre che ho anche grossi problemi di salute, è dura come il ferro perché tanti medicinali per la mia malattia non sono gratuiti, a parte che non c'è quasi più niente di gratuito, d'altronde bisogna andare avanti, finché si fa. E non si riesce neanche a passare un momento tranquillo per le feste? No, perché ci sono sempre problemi qua in condominio, nessuno fa niente, si spera che prima o poi qualcuno apra gli occhi, sta diventando molto molto invivibile questo condominio.